Chi ha ucciso Calvi? La banda della Magliana? Penso perché a quell'epoca era venuta fuori una voce che sembrava che riciclasse, vedi io le dico le cose come perlomeno mi sono state riferite o sentite, sembrava che il Banco Ambrosiano avesse riciclato un po' di denaro e infatti se lei avrà notato perché bisogna seguire le cose, Rosoni fu gambizzato a quell'epoca a Milano mi pare, era come sempre questa voce che io sto ripetendo, l'artefice era Rosoni che cambiava fuori del Banco Ambrosiano, richiedeva questo denaro per poterlo, poi quando sono arrivati per richiederle il denaro, infatti, prima hanno gambizzato Rosoni e poi hanno eliminato Calvi perché? Perché l'hanno portato a Londra? Sì Prego, prego Perché l'hanno portato a Londra? Badam Perché l'hanno tenuto fermo? Perché? No, 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 le dico questo, perché l'hanno tenuto fermo? Probabilmente l'avevano promesso che a Londra avrebbero ritrovato dei denari o che dei denari erano a Londra, che poi quando sono arrivati a Londra, Calvi non ha potuto dimostrare che c'erano i denari che lui aveva promesso. E allora loro che cosa hanno fatto? Lo hanno eliminato perché un uomo di una corporatura piuttosto pesante non poteva metterci mattoni come simboli, per indicare e sviare come simboli massonici, che il mattone non è un simbolo massonico, sono d'accordo. E più, fra l'altro, come faceva arrampicarsi? E poi se lei guarda le fotografie di allora, aveva, qui il colletto era perfetto, quando uno si mette un caffio e poi viene l'istinto per potersi, quindi viene spiegazzato. Perché i frati neri? Aspetti, ma non lo so perché... È un simbolo massonico? No, 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 non abbiamo nulla a che fare, con i frati non abbiamo nulla a che fare. Aspetti, ma è il 2 per... Perché la mattina alle sette non c'era più Carboni, non c'era più quelle due ragazze che si era portato dietro? Sì, Austria che mi pari. Sì, Austria che c'è. Partire, l'avevano in consegna e loro appena alle sette la mattina pressero l'aereo e se ne andarono via. E' lì che la polizia e anche la magistratura non hanno voluto fare chiarezza. Perché io avrei fatto chiarezza. Avrei detto, ma scusate, l'avete portato voi, c'è la fotografia e l'avete ammesso, c'è la fotografia sull'aereo in quanto stava sull'aereo. Perché siete, quindi era per poter proteggerlo in certo quel modo. Perché l'avete quando avete appreso che è stato suicidato e sicuramente sapevate voi chi è che l'aveva suicidato. Avete tagliato la corda immediatamente e andando su in Austria. Ok. Senta, la Gabanelli, Milena, quando ha fatto l'intervista a Pazienza, l'ha chiamata? No. Non ha verificato le dichiarazioni. No, niente. Lei le avrebbe chiaramente smentite. Ma infatti, Dio, se fosse stata... Lei, una certa etica, eventualmente non l'ha seguita perché, perlomeno, la De Gregorio, o tutti i giornalisti sono venuti... Perché lui, lei scrive, Pazienza, braccio destro di Gelli, che è totalmente inventato, secondo lei. Inventato da lei. Da lei. Giustamente. Vuole che io spendessi dei denari per farle una querela? A parte tutto dura poi 6, 7, 8 anni, quando io avrò, forse fra 7, 8 anni avrò raggiunto l'eterno riposo. Senta, dice che i comunisti, dice, Pazienza, che i comunisti presero un sacco di soldi dal Banco Ambrosiano, è vero? Secondo lei. Quello non glielo so dire, lo dice Pazienza, bisogna chiederlo a lui. Che è un'accusa... Dice che i servizi segreti inglesi sapevano che Calvi era a Londra. No, no, no. È vero? No, 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 prima, perché il Monte dei Paschi, il Monte dei Paschi, aveva prestato al Partito Socialista 5 miliardi all'ora, e più, Paese Sera, c'era quel giornale, non so se c'è più. Come no, me lo ricordo, non c'è più. 18 miliardi. Da chi? Dal Banco Ambrosiano. E quindi? E quelli. Quindi probabilmente si tratta di quelli. Servizio segreto inglese, sapeva che Calvi era a Londra, secondo lei? No. Era informato? Non lo so. Non lo sa. Quello non lo so. Questo dice che la Gabanelli nel suo articolo di... E torna l'accusa di depistaggio. No, scusi, come si chiama? Milena Gabanelli. Eh, questo si vede aggabbato. Di solito è una collega seria, di solito è molto, molto seria. Di solito è una collega molto, molto seria. Io lo devo contraddire perché se una, eventualmente, era seria, veniva da me e sapeva dove ero e dove abitavo, perlomeno a chiedermi se era vero o non era vero. E lì si dimostra la serietà. Però lei scrive, Gelli è accusato di depistaggio. Ma io, se il depistaggio viene fatto da coloro che seguono le indagini, da coloro che seguono le indagini, come fa lei a depistare una indagine di qualsiasi cosa? Se lei non è né la polizia oppure né la magistratura, come fa a depistare lei? Lì c'era un generale dei carabinieri musumesci, c'era il colonnello Belmonte, non so se... Sì, Belmonte, sì. Del Belmonte, poi c'era un altro capitano e poi dice pazienza. Come può anche pazienza, io non lo so come faceva, che rapporti poteva avere, che rapporti non poteva avere, ma una persona civile, come fa a depistare? Se non fa parte dei servizi o non fa parte... Beh, i servizi c'erano nella P2 però, o no? Caspita mentalmente se c'erano. E allora? No, 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 c'erano perché io li posso dire anche che il capo dei servizi segreti, Micheli, abbiamo nominato noi. E quindi lui dice... A mezzo del ministro Mario Tanassi. E quindi il depistaggio... No, 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 no. E' sbagliato l'aggancio. E' tutta una cosa diversa. E' un'altra cosa. E' tutta una cosa diversa. E' come se, eventualmente, se Micheli avesse ammazzato una persona, c'è perché? E che cosa c'entra? Era iscritto alla loggia massonica per due, lui, ma non solo lui, anche Santo Vito. Però da lei non è partito nessun ordine, nessuna attività di depistaggio. Ma lei scherza? Ma né la P2 ha agito in talsenze. No, ma guardi, se lei continua mi offende. No, va bene. No, 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 non glielo dico io, voglio eventualmente sia marcato. Per dire, sono completamente estraneo. Tant'è vero, in primo grado, io veni assolto completamente. Poi guardi, poi dopo assolto completamente, allora fui assolto e mi condannarono per calugna, che io avevo calugnato qualche terrorista a destra. Poi è caduto anche quella e allora mi hanno affibbiato il depistaggio. Ma stai niente conto quanti sono ridicoli certi magistrati.